Ah, quindi dobbiamo grattare, ci sono grandi avvici, avete vinto un bimbo, vediamo, prendiamo la manita, ve la stanno facendo sudare, io non so chi l'ha organizzato ma ve lo stanno 2 euro? Eh, 2 euro, 2 euro. Bene, grattano metà chi e metà il dico e poi mi dite cosa c'è scritto. Diventerai? Diventerai, che cosa? Già, vittoria, 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 bravo, bravo, siete autonomo che mi piace, diventerai papà? Papà, Enrico, sei contento? E diventerai papà? Molto bene. Signore e signore, allora, arrivati a questo punto, no, io ho una domanda da fare a reliqua di visa, io vorrei chiedervi questo, nel 2023 vi siete sposati, no? Una grande gioia per quei due, ma tornando un po' indietro nel tempo, in un paio d'anni, nel 2021 precisamente, qual è stata la vostra più grande gioia? 2 gennaio! 2 gennaio! 3 gennaio! 3 gennaio! 3 gennaio! 4 gennaio! 4 gennaio! 4 gennaio! 5 gennaio! 5 gennaio! 5 gennaio! 5 gennaio! 6 gennaio! 6 gennaio! 6 gennaio! 6 gennaio! 7 gennaio! 7 gennaio! 7 gennaio! Poi togliamo il cioppino, posiamo la giacca e togliamo la camicia del rito. Poi togliamo la camicia del rito.